Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in un nuovo episodio di Another Life è passata ormai qualche settimana dalla laurea di Veronica e da quando lei è venuta ad abitare insieme a Sebastian nel loro nuovo appartamento di cui poco tempo fa ho fatto uscire un video home tour in cui ve l'ho fatto vedere bene nei dettagli per cui se vi piace questa tipologia di video e ve lo siete persi vi consiglio di andare a recuperarlo intanto ci sono stati dei cambiamenti già uno è abbastanza evidente e lo potete vedere la nostra Vero ha totalmente cambiato look visto che ormai è autunno mi era venuta voglia un po' di farle un restyling e potete vedere che ha dato un bel taglio ai suoi capelli devo dire che mi piaceva molto con i capelli lunghi e quella bella treccia che aveva prima ma ragazzi con questo taglio corto un po' sbarazzino trovo che comunque sia carinissima fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate adesso vi faccio vedere anche un po' meglio i suoi nuovi look nel cas intanto come potete vedere si sta dedicando al lavoro a maglia sta qui sferruzzando infatti da un po' di tempo a questa parte ha iniziato questo nuovo hobby ha scoperto che le piace molto la rilassa e soprattutto riesce a creare delle cose veramente carine di cui alcune le mette a vendere su plopsy e mi sa proprio che qualcuno ci ha comprato il nostro berretto no in realtà tutto il contrario ci dice che è terminato il periodo dell'annuncio su plopsy l'articolo è tornato nel tuo inventario perché nessuno l'ha comprato però devo dire ragazzi che un paio di articoli sono riuscita a venderli quindi non ci scoraggiamo tra l'altro abbiamo raggiunto il livello 3 dell'abilità a maglia ed essendo oggi il giorno della nuova abilità ottimo così guadagniamo anche un po' di punti vitalizi adesso Veronica può lavorare completi d'arredo ciò significa coperture per cassette postali e portavasi per tutti oh io adoro queste cose che sbloccando aumentando di livello l'abilità si sbloccano tante nuove cose da fare ok direi che io espongo di nuovo il nostro berrettino su plopsy ha terminato anche i calzini che stava facendo e metterei anche questi perché se riusciamo a venderli li vendiamo a prezzo abbastanza maggiorato quindi non male e poi la cosa carina è che li dobbiamo spedire a chi l'ha acquistati tramite la cassetta postale quindi molto carina e realistica come cosa Veronica intanto è super fiduciosa perché appena ha finito un bel progetto a maglia una combinazione di pazienza, passione e perseveranza ha reso possibile questo momento nel frattempo ragazzi che cosa sta facendo Veronica? in questo periodo oltre a dedicarsi alla nuova abilità ha mandato in giro anche vari curriculum per vedere se riusciva a trovare lavoro come insegnante e proprio adesso agli inizi dell'autunno è riuscita finalmente a trovare qualcosa di molto interessante infatti ragazzi è stata assunta come istruttrice intrepida avendo una laurea è partita già a un livello abbastanza alto della carriera ovvero dal livello 6 ed è niente po' po' di meno che una professoressa sei l'istruttrice di più fresca nomina all'università ragazzi cioè mica bazzecole, grande la nostra vero non sono ancora in molti a rispettarti beh, d'altra parte siamo appena arrivati non fai parte del personale ordinario ed è chiaro che hai da imparare quasi quanto gli studenti stessi individua il tuo stile distintivo per le conferenze mantieni le interessanti e mostra ai colleghi di che pasta sei fatta come incarico per la promozione dobbiamo raggiungere il livello 3 di logica che l'ha già fatto e raggiungere il livello 6 di dibattito lei sta al 5 quindi ci siamo quasi e come assegnazione lavorativa da casa doveva fare da tutor online ad uno studente e l'ha già fatto quindi ci siamo ben portati avanti con il lavoro e ragazzi domani lunedì alle 9 sarà il suo primo vero e proprio giorno di lavoro quindi lei è emozionatissima e non vede l'ora però intanto si sta godendo un po' questa domenica sferruzzando e rilassandosi per quanto invece riguarda il nostro Sebastian come vedete anche lui ha subito un cambio di look ma a lui ha solo cambiato un po' l'acconciatura niente di che lui oggi invece ha completato un incarico di artigiano che gli era stato assegnato per cui adesso direi che ne andiamo subito a cercare un altro vediamo se c'è qualcosa adatto al nostro livello controlliamo la disponibilità di ingaggi ho iniziato l'aspirazione di creatore magistrale con lui che non aveva ancora provato con nessun sim quindi mi sto davvero divertendo a sperimentarla ed è già arrivato al secondo gradino dell'aspirazione quindi non male ragazzi e oggi magari ci dedichiamo anche un po' a lui portando avanti altre cose dell'aspirazione e portando a termine l'ingaggio che spero di trovare vediamo un po' che cosa abbiamo disponibile dunque abbiamo un incarico a livello 1 che ovviamente paga poco però ne ho visti un altro paio ecco qua almeno livello 3 quindi pagano un tantino di più questo già 400 e sì ecco un altro sempre livello 3 sempre 400 una candela nel vento oppure l'amore nell'aria vediamo un po' questo che sembra carino e là gestisco un'attività locale stiamo sperimentando una nuova promozione chiamata serata degli innamorati alle coppie che si presenteranno riserveremo uno speciale menu scontato che sarà servito al lume di candela se andrà come speriamo avremo bisogno di molte candele pensi di riuscire a garantirci la fornitura? io direi di sì accettiamo anche perché ragazzi qui in questo piccolo disimpegno dell'appartamento sono riuscita a piazzarci proprio il macchinario per costruire candele quindi possiamo tranquillamente farlo allora aspettate che non ho visto però la scadenza giovedì siamo a domenica quindi abbiamo tutto il tempo dobbiamo chiacchierare con il cliente creare candele cilindriche ben 3 e poi inviarle allora direi intanto chiacchieriamo un po' con il cliente così gli chiediamo che cosa vuole ci facciamo un'idea migliore di quello che dovremmo fare così almeno rischiamo di sbagliare meno andando a crearle dopodiché dobbiamo acquistare gli ingredienti per le candele quindi intanto mi prendo 3 cere di soia perché una cera serve per una candela poi magari potremmo anche andare ad acquistare qualche tintura in modo da renderle colorate non so dal momento che dovranno essere candele per le scene romantiche magari ci sta bene tipo un colore rosso insomma o rosa qualcosa che ricordi appunto un po' l'amore vediamo un po' intanto uh il nostro Sebastian ha appena acquisito un nuovo stile di vita unitario ah giusto ragazzi mi stavo scordando che anche la nostra Veronica ha acquisito lo stile di vita unitario quindi come vedete Sebastian e Veronica vanno di pari passo sono abbastanza conciliabili da vivere insieme quindi mi fa molto piacere questo i sim che perseguono lo stile di vita unitario preferiscono stringere legami profondi con una cerchia ristretta di amici per acquisire o mantenere lo stile di vita un sim dovrebbe continuare ad avere da uno a tre amici cercando al tempo stesso di approfondire le relazioni esistenti ottimo Sebastian se non sbaglio sì come stile di vita ha soltanto questo ok mentre la nostra Veronica oltre a affamata d'amore che già l'ha acquisito da un po' di tempo ha anche unitario quindi ottimo allora il cliente ci ha parlato che cosa ci ha detto di bello a questo punto farei creare a Veronica qualche altra cosettina visto che abbiamo sbloccato alcuni oggettini nuovi quindi vediamo un po' tra questi coperture per cassette postali oppure portavasi pensi ma proviamo dei portavasi va vediamo quanti ce ne stanno davvero tanti tutti livello 3 ma direi di provarne uno a caso ragazzi tanto per così per fare una prova questo qui color crema per piante con vaso marrone arancione medio vai vero vediamo un po' che cosa sei in grado di creare ok intanto Sebastian ha parlato con il nostro fornitore e a questo punto lasciamo qui Veronica a creare i suoi oggettini a maglia mentre con Sebastian me ne vorrei andare un po' in giro a vedere se trovo delle occasioni di scarica magari qualcosa che può essere riutilizzato riciclato per creare delle tinture che ci potranno servire per fabbricare le candele del nostro ingaggio e andrei nello spazio comunitario della stazione delle conifere tra l'altro in questo spazio ci ho piazzato il fabbricatore che è sicuramente uno strumento che a Sebastian servirà sia per la sua aspirazione che per il suo lavoro però purtroppo in casa nell'appartamento essendo piccolino non ci sarebbe mai entrato quindi l'ho piazzato qui ho fatto finta che sia un fabbricatore che hanno messo così un po' di fortuna che non funziona sempre tanto bene infatti ragazzi una volta Sebastian c'è tipo finito dentro e ho seriamente temuto che ci crepasse là dentro però per fortuna non è successo poi magari quando loro due avranno una casetta un po' più grande magari un bel giardino ce ne compreremo anche uno personale però per il momento sfruttiamo questo che sta qua intanto ah qui qualcuno ci ha rubato il posto nel secchio aspettiamo un attimo perché vorrei poter riciclare qualcosina anche perché per creare le candele mi servono un po' di pezzetti questi qua del riciclo ok dai immergeti Sebastian si lo so che non è proprio una cosa bellissima qui però ci fregano tutti il posto dentro il cassonetto mamma mia ma è così allettante tuffarsi in un cassonetto vabbè ok finalmente è il nostro turno spero di trovare qualcosa di interessante da riciclare che ci servono un bel po' di pezzetti eh ragazzi questo è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo quindi Sebastian pur di portare a termine il suo lavoro bene veramente è disposto a sacrificarsi in questo modo abbiamo trovato alcuni materiali riciclati di cui potremmo fare buon uso ottimo vediamo un po' che cosa abbiamo trovato niente di particolare giusto beh qualche pezzetto in più che può esserci utile abbiamo qualcosa da riciclare nell'inventario ah oddio no abbiamo trovato ragazzi una cattedra e un orologio beh mica male io mi riciclerei entrambi perché così mi danno tanti pezzettini di aggiornamento e di riciclo che possiamo utilizzare quindi andiamo ok al lavoro con la macchina del riciclo e poi andiamo a fare alcune tinture io qua scarterei la fabbricazione perché il tappeto non mi sembra che l'avevo fatto io quindi lo scartiamo e poi andiamo ad acquisire alcune tinture vediamo un po' colore rosso c'è c'è rosso mattone ok potrebbe starci se no beh nera non mi pare il caso insomma per una serata romantica verde salvia potrebbe anche starci ah ho anche blu cielo blu e direi ambra dai acquisiamo queste tre e poi torniamo a casa perché con tutti questi pezzettini di riciclo che abbiamo trovato direi che stiamo a posto per creare le candele oh qui intanto sta scartando la vecchia fabbricazione che era stata iniziata da qualcuno le nostre tinture le abbiamo prese sì ce le abbiamo tutte e tre abbiamo la cera ottimo adesso torniamo a casa a creare qui Veronica è ancora alle prese con il portavaso ma dovrebbe finire a breve intanto a Sebastian ho fatto fare una doccia perché insomma visto che si era tuffato nel cassonetto direi che ci stava tutta e adesso iniziamo a creare una candela dobbiamo fare quella cilindrica se non ricordo male quindi iniziamo a creare prima quella rossa vediamo come viene fuori oh Veronica ha finito il progetto a maglia vediamo un attimo come è venuto e direi che esponiamo tutto su Plopsi altrimenti ragazzi potrete volendo anche donare l'oggetto regalarlo oppure quando si tratta di oggetti di abbigliamento quindi tipo berretti calzini eccetera potete cliccare sull'opzione che lo sbloccherà dal vostro crown sim e quindi potete aggiungerlo in questo modo ai vestiti da poter scegliere qui ecco mi era sembrata infatti la nostra Ceci condividi consigli unitari ma si raccontiamole un po' del nuovo stile di vita che abbiamo ottenuto e chiacchieriamo un pochino con lei perché vi ricordo ragazzi che Cecilia abita proprio qui accanto a noi quindi questa cosa è bellissima perché le sorelle lungo possono continuare a vedersi molto spesso abitando sullo stesso pianerottolo quindi adoro come cosa direi sediti e chiacchierate un po' qui insieme oh guardate Veronica com'è contenta di condividere i consigli sul suo stile di vita Veronica ha avuto un'ottima conversazione sul proprio stile di vita a volte il modo migliore di godersi uno stile di vita e condividerne i vantaggi con altri intanto torniamo a vedere come se la sta cavando Sebastian guardate che carino come armezza mi piace un sacco anche vederlo lavorare proprio qua perché tutto il processo l'animazione per la creazione di candele è davvero molto carino e accurato tanto mi sa che sta aspettando che si sciolga un po' la cera che insomma si sta scaldando e già possiamo vedere la tintura rossa mattone ma secondo me viene fuori una bella candela alla fine di questa colorazione dai ci siamo quasi ormai manca pochissimo per la fine invece le candeline quelle più piccine chiamate in tinte che sono fine fine ho visto che le mette in quest'altro calderone qui quindi ci sono anche dei modi diversi di creare diversi candele giustamente e abbiamo finito di creare la candela sagomata la possiamo trovare nell'inventario vediamo un po' oh ecco qua guardate che carina qualità eccezionale grande Sebastian mica male però si è un pochino stancato quindi magari adesso ci sta che si vada a rilassare un po' al computer e poi anche domani può tranquillamente finire le candele tanto abbiamo tempo fino a giovedì quindi direi che a questo punto salutiamo la nostra Ceci e poi ci prepariamo per mandare a letto Veronica e Sebastian anche perché domani è il primo giorno di lavoro di Veronica quindi lei vuole essere impeccabile svegliarsi presto arrivare prima di tutti gli altri perché insomma giustamente ci tiene a fare bella impressione il primo giorno intanto ne approfitto per farvi vedere i nuovi look di Veronica ecco così vi faccio vedere bene anche un supremo piano con questo nuovo taglio di capelli secondo me ragazzi ci sta benissimo cioè guardate quanto è carina adoro tantissimo questo è uno dei due look quotidiani e l'altro invece è questo quindi questo maglioncino lungo perché effettivamente siamo entrati in autunno quindi le temperature si abbasseranno per cui un bel maglioncino caldo ci sta tutto formale ho giusto cambiato l'acconciatura ma il vestito è rimasto quello che aveva prima sportivi si gliel'ho cambiati mettendole sempre qualcosa di più caldo e pesantuccio stessa cosa il pigiama guardate che carino in mezzo a questi colori autunnali che ci sta tutto da festa anche ho cambiato sia capelli guardate che bella questa acconciatura un po' mossa stupenda vestitino super trendy vabbè il costume da bagno è rimasto lo stesso clima caldo ho cambiato questo ma penso che cambierò di nuovo perché ho adocchiato nuovi vestitini carini che usciranno nello staff pack fenomeni paranormali quindi le metterò probabilmente uno delle nuove cose qualcuna delle nuove cose e poi clima freddo anche l'ho cambiato guardate che carina l'adoro davvero con questi nuovi look invece Sebastian come vi ho detto gli ho cambiato soltanto l'acconciatura per il resto i vestiti gli ho lasciato quelli che aveva perché effettivamente con lui ci ho giocato poco e quindi non mi sono ancora stancata dai vestiti che aveva per cui glielo ho lasciati intanto Veronica è andata al lavoro e Sebastian ne sta approfittando per creare le altre due candele per terminare così l'ingaggio vediamo un po' queste altre come vengono fuori la prima era di qualità eccellente quindi ottimo vediamo se riesce a creare di buona qualità anche le altre due e ragazzi guardate un po' che cosa è comparso a Sebastian intanto che stava creando il nuovo stato umorale aggiunto con l'ultimo aggiornamento in questo momento lui ha spaventato dai temporali tuoni fulmini e pioggia profusione per fortuna al chiuso non si corrono rischi quindi ha il mood spaventato non abbastanza da farlo diventare proprio spaventato come emozione però insomma un pochino sta temendo questi temporali e in effetti fuori piove davvero tantissimo fulmini e saette e quando cade un fulmine e c'è il tuono si sente proprio la casa l'appartamento che trema quindi effettivamente un po' di paura credo che ce l'avrei anch'io ed ecco la nostra vero che è appena tornata dal suo primo giorno di lavoro sembra piuttosto contenta e soddisfatta dalla sua faccia questo è l'abbigliamento con cui è andata al lavoro che non è che sia proprio il massimo cioè la giacchettina è carina ma il pantalone insomma comunque se deve vestirsi così purtroppo dobbiamo farla vestire così vediamo un attimo se ci sono nuovi incarichi del giorno si dobbiamo scrivere una relazione accademica quindi non male gliela facciamo scrivere subito però ho visto che se bastiano oltre che si sta per fare sotto la pipì che non è il caso ha però terminato di creare le altre due candele eccole qua guardate che bello questa d'ambra è di qualità normale quindi non eccellente come la rossa ma vabbè ci possiamo accontentare eppure quella color cielo vediamo un po' se anche il nostro cliente è soddisfatto quindi andiamo sul pc e inviamo per l'approvazione una due e anche la terza adesso andiamo a leggere anche le notifiche ok affascinante esattamente ciò che stavamo cercando ottimo lavoro se basti continua così anche per la seconda e anche per la terza ragazzi la serata degli innamorati ha riscosso un successo strepitoso le tue candele hanno creato l'atmosfera ideale ottimo bravo il nostro sebastian così ha anche aumentato la sua barra del rendimento adesso è su buono perfetto e è andato anche un po' avanti con la sua aspirazione ha raggiunto il livello 5 dell'abilità di fabbricazione quindi ottimo l'ultima cosa che vorrei fare però con loro era far spedire a Veronica alcuni oggettini perché ragazzi qualcuno ce l'ha comprati su plopsy sia il portavaso che il berretto quindi spediamo lei adesso vedete che era diventata spaventata perché deve uscire fuori con il temporale quindi dai torna dentro perché poverina mi dispiace che si spaventi e qui guardate però è bella ispirata perché ha appena fatto un bel affare su plopsy il sim ha concluso una vendita su plopsy può sorprendere ma l'esperienza di uno sconosciuto su internet che compra le nostre cose migliora l'autostima continua così ed effettivamente ragazzi guardate Veronica com'è contenta di questo nuovo inizio di nuova vita che sta avendo ha iniziato a lavorare ha trovato un bel lavoro certo ne dovrà fare di strada di gavetta però è soddisfatta ha iniziato questo nuovo hobby sta procedendo bene le cosine che crea sono molto carine la gente le compra anche Sebastian sta andando bene con gli incarichi del lavoro di artigiano freelance quindi ragazzi la loro vita va per il momento alla grande ma adesso direi di passare un attimo anche dalla nostra Cecilia perché anche lei ha alcune novità da dirci e anche Cecilia poverina è spaventata dal temporale comunque quali sono le novità per lei tanto per iniziare ha intrapreso un nuovo lavoro ha lasciato quello di progettista civile che non le piaceva granché anche perché gli incarichi del giorno erano piuttosto impegnativi doveva andare in giro parlare con la gente fare progetti quindi ha deciso di lasciarlo e attualmente ha iniziato il nuovo lavoro di lavoratrice salariata a livello 1 perché lei non ha qualifiche ha mollato l'università quindi comincia sempre un po' dal basso non ha grandi esperienze quindi ci sta si dice che occorreranno sei mesi per diventare produttivi in un nuovo impiego Cecilia avrà sei ore ammazza le nuove leve della società dati lungimiranti dovranno rigare dritto e lei si trova in fondo alla catena alimentare del competitivo mondo aziendale diciamo che questo è un lavoro d'ufficio quindi si è piuttosto noiosetto per la personalità di Cecilia però d'altra parte è anche meno impegnativo rispetto a quello di prima cioè si deve impegnare poco e quindi dai ci può stare poi altra cosa riguarda i club se vi ricordate lei era entrata in quello console della console di cui però non era la leader in realtà è uscita qualche volta con i membri di quel club però non è che si sia trovata chissà quanto bene quindi che ha fatto se ne è andata e ha deciso di creare lei un nuovo club di cui ovviamente è la leader perché l'ha creato lei e l'ha chiamato Late Night in onore dell'espansione di The Sims 3 proprio Late Night che riguardava appunto la vita notturna il divertimento e la vita notturna quindi secondo me è molto carino come nome l'iconcino ho messo questa del caffè perché giustamente ci vuole un bel po' di caffè o altri nei girzanti vari per far follie tutta la notte come vedete la descrizione è molto semplice e concisa balla canta mangia e bevi fai quello che vuoi ma fallo fino a notte fonda come vedete attualmente in questo club a parte lei non comprende nessuno ma semplicemente perché mi piace l'idea che lei vada in giro diciamo per i locali magari incontri nuove persone con cui ha interessi in comune tra cui appunto ballare cantare andare a divertirsi e quindi poi li inviti lei proprio di persona perché volendo avrei potuto anche aggiungerli da qua diciamo scegliendoli dalla lista però mi piace di più l'idea che lei vada in giro a cercare proprio nuove persone la vedo anche molto più realistica ritrovo del club ci ho messo qualsiasi locale notturno come requisiti i sim devono avere più due di abilità almeno una tra queste che vedete elencate quindi ballo canto mix saggio dj e mixologia come attività del club ho messo ovviamente bere bevande da bar ballare cantare mangiare e usare interazioni amichevoli con i membri del club late night mentre come attività da non fare usare interazioni perfide con i membri del club late night in realtà in realtà però ragazzi c'è un'altra cosa un'altra possibile novità in arrivo perché è da un po' di tempo che Cecilia non si sente proprio benissimo in piena forma ecco si sente spesso molto stanca a nausea mal di stomaco vedete che pure adesso si sta mettendo la mano davanti alla bocca perché ha questo strano senso di nausea che gli è perdurata un po' troppo tempo poi Cecilia è sempre stata una tipa bella attiva si è sempre ammalata molto poco e quindi diciamo che sente che c'è qualcosa che non va e adesso che ha anche un ritardo di parecchi giorni si è decisa a fare una cosa ebbene si ragazzi ha comprato un test di gravidanza perché pensa che potrebbe essere incinta e quindi andiamo a scoprirlo insieme a lei forza Ceci è il momento della verità scopriamo se è davvero incinta come pensa di essere ragazzi dio sono sono in ansia per lei e sì il test è positivo si mangia per due Cecilia in dolce attesa ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare devo dire che lei l'ha presa benissimo che sta ballicchiando oh poverina c'è un po' di nausee ma ok a questo punto sappiamo il perché sappiamo che è tutto normale quindi non sta male ma è qualcosa di assolutamente fisiologico certo c'è da dire che è qualcosa che Cecilia non si aspettava per nulla non era programmato sicuramente non adesso e quindi che cosa succederà ragazzi da questo momento in poi intanto noi Cecilia sa chi è il padre di suo figlio o sua figlia ancora non sappiamo il sesso del futuro bimbo o bimba lei però sa chi è il padre in realtà ragazzi lo sappiamo anche noi il papà del bimbo bimba di Cecilia è il nostro caro Akira Kibo perché è l'ultimo con cui Cecilia è stata si è frequentata non si vedono più da ormai un paio di mesetti e in quest'ultimo periodo si Cecilia ha avuto un paio di appuntamenti con alcuni ragazzi c'è uscita a cena una sera e poverina mi sa che sta correndo in bagno a vomitare mannaggia ok va bene dai magari la mandiamo un attimino qui a riposarsi sul letto però prima scusami però pulisci sto schifo perché non lo posso proprio vedere comunque dicevo ha avuto un paio di appuntamenti a cena con alcuni ragazzi però non c'è stato altro quindi Akira Kibo è il papà del nuovo bimbo per cui da questo momento in poi che cosa succederà lei lo dirà ad Akira e soprattutto lui come la prenderà la prenderà bene vorrà partecipare alla vita di suo figlio oppure no beh direi che questo lo scopriremo nel prossimo episodio per oggi è tutto spero che questo video vi sia piaciuto se è così mettete il like mi raccomando fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate se vi piacciono tutte le novità sia per quanto riguarda la vita di Cecilia e Veronica che sta proseguendo bene come abbiamo visto sia per questa notizia super bomba che abbiamo appena scoperto per Cecilia inoltre ricordate di mettere anche mi piace alla mia pagina facebook e instagram per rimanere sempre aggiornati noi ci rivediamo presto nel prossimo video ciao ciao